Ciao a tutti! Allora, oggi vediamo probabilmente il teorema più importante di tutto il corso, il teorema fondamentale del calcolo integrale, quindi prestiamo attenzione a questo teorema che probabilmente conoscete già ma è bene capire esattamente quello che dice. Prima del teorema introduciamo una definizione che avremmo potuto dare subito, che però mi è rimasta tra le righe. Noi abbiamo detto che se F integrabile, c'è una notazione più che una definizione, se F integrabile su AB, abbiamo definito l'integrale di F, che si scrive con questo simbolo o con questo. Va bene, possiamo, quindi stiamo assumendo che siccome la funzione è integrabile sull'intervallo AB, siccome questo intervallo è non vuoto, diciamo A è minore di B in questa scrittura. A è minore, forse potrebbe essere uguale al limite, ma non sarebbe molto interessante. Se A è uguale a B, questi integrali fanno sempre 0, perché capite che c'è un'unica suddivisione fatta da un solo punto in cui l'integrale viene 0. Comunque, la notazione che si introduce, dice, se io scrivo l'integrale con gli estremi scambiati, si intende meno l'integrale tra E di F. Quindi, se io scambio gli estremi, se A è minore di B e scrivo invece prima B e poi A, quindi qui B. Quello che sta sotto dovrebbe essere l'estremo sinistro, e in questo caso invece è più grande. Va bene, allora per convenzione si intende che questo integrale è l'opposto di questo, e questo è ben definito, perché qui A è minore uguale di B. La cosa è sensata perché vuol dire, diciamo, l'integrale rappresenta l'area con segno, e il segno può essere dato, quindi se io ho una funzione definita sull'intervallo AB, abbiamo detto che l'integrale misura queste aree, però la parte che sta sotto l'asse delle X con segno meno. Quindi sono, diciamo, aree diciamo orientate, aree orientate, nel senso che, beh, nella definizione queste sono aree, si ottengono come somma di aree di rettangoli, e quando il rettangolo ha altezza negativa, l'area viene negativa, perché il prodotto base per altezza con un'altezza negativa, quindi questa sarebbe un'area con segno. Allo stesso modo se B è minore di A, cioè se io faccio l'area integrale in questa situazione da B A è come se la base fosse negativa, ok? Nell'integrale ci sono sempre tutte le basi dei rettangoli che vengono a moltiplicare l'altezza, e anche in questo caso se la base fosse negativa, quindi se A e B sono scambiati, l'area cambia di segno, va bene? Ok, questa è una notazione utile, è utile perché l'addittività dell'integrale, cioè l'integrale, noi abbiamo dimostrato che l'integrale tra C di F è uguale all'integrale tra A e B più l'integrale tra B e C di F. Questo l'abbiamo dimostrato se A, B e C sono ordinati in questo modo qui. Però in realtà, con questa notazione, questa proprietà è vera in qualunque ordine siano messi A e B e C. Cioè se gli integrali si possono fare, hanno senso, cioè se la funzione è integrabile sull'intervallo più grande, non importa in che ordine sono messi questi tre punti, questo ha sempre il significato corretto in base a quella convenzione. Cioè, per esempio, se A e B e C sono in quest'ordine, abbiamo dimostrato che vale questa formula, ma allora cosa significa? che l'integrale tra A e B di F, questo, per esempio, è uguale all'integrale tra A e C di F meno l'integrale tra B e C di F. Ok? Se questo è vero, perché A e B e C sono in quell'ordine, è vero anche questo, di conseguenza, e questo è uguale all'integrale tra A e C più i F più, e questo sarebbe col segno meno, per convenzione si potrebbe dire che è l'integrale tra C e B. Quindi vedete che l'integrale tra A e B, e stavolta, diciamo, C non è il punto intermedio, ma comunque è vero che è uguale all'integrale tra A e C più l'integrale tra C e B. Anche se C non è il punto intermedio. Ok? E quindi, in realtà, questo è vero sempre. Fate tutti i casi possibili. Se sono in qualunque ordine, l'integrale tra A e B è uguale all'integrale tra A e C più l'integrale tra C e B, e viceversa l'integrale tra B e C sarà uguale, lo possiamo scrivere, l'integrale tra B e C di F a cose uguali, lo ritengo da qui, è l'integrale tra A e C di F meno l'integrale tra A e B di F, e quindi, scambiando gli estremi di questo e cambiando l'ordine, questo è l'integrale tra B e A di F più l'integrale tra A e C. Quindi, diciamo, qui avevamo A minore di B e minore di C, e l'integrale tra A e C è uguale alla somma dei due integrali. Qui abbiamo, di nuovo, diciamo, l'ordinamento è sempre lo stesso, però vedete che ho scelto prima gli estremi, poi i primi due, poi i secondi due, e vale sempre la stessa formula. Quindi questa formula vale, diciamo, in qualunque ordine sono messi A, B e C, questa formula è valida, ma è solo una convenzione, diciamo, se gli estremi non sono ordinati, c'è un cambio di segno. Va bene, quindi possiamo enunciare il teorema fondamentale del calcolo integrale. Teorema, allora, se vogliamo attaccare un nome a questo teorema, di solito si chiama Torricelli-Barrow. Però voi scriveteci sugli appunti, c'è scritto fondamentale, del calcolo integrale, per capire che questo va, insomma, va saputo. Cioè, se c'è un teorema che va saputo, è questo. E cosa dice questo teorema? Diciamo, se abbiamo una funzione, F, definita su un intervallo, I è un intervallo di numeri reali, intervallo, e F è continua, e qui lo sottolineo perché questa è un'ipotesi non del tutto banale, poi scegliamo un punto X con 0 nell'intervallo, sia X con 0 un punto nell'intervallo, e sia, consideriamo questa funzione, F, grande, che si chiama funzione integrale. Cioè, consideriamo, ora, l'integrale tra X con 0, che è un punto fissato, e X, un estremo variabile. Quindi la funzione integrale è una funzione che è uguale all'integrale, ricordatevi che l'integrale è un numero, non è una funzione, ma se un estremo di integrazione è variabile, e questa diventa una funzione di quell'estremo, quindi l'integrale della funzione F piccolo, e ora qui, se io voglio usare come notazione, cioè, se voglio mettere la variabile, sarà bene che questa variabile sia diversa da questa, questa è una variabile muta, potrei anche non mettere, potrei scrivere l'integrale di F, come ho fatto finora, ma siccome le funzioni si scrivono usando delle variabili, se voglio metterci qui una variabile, che comunque è una variabile muta, sarà il caso che sia diversa dalle altre variabili che ho scelto. Quindi la chiamo T, F di T di T. Ok? È chiaro? Cos'è questa? Funzione integrale, quindi io ho una funzione F, questo è il suo grafico, Y uguale a F di X, ho scelto un punto X con 0, e al variare di X, io sto considerando la funzione che mi dà l'area sottesa dal grafico e dalla funzione. Quindi, quest'area, F grande di X è l'area di questa regione, F grande di X, non si vede, e qui ci sono tutte le convenzioni, ovviamente quando la F è piccola e negativa, l'area è considerata col segno, X può essere minore di X con 0, e si usa quella notazione di prima, in quel caso, questo integrale ha senso, no? X piccolo può essere più grande o più piccolo di X con 0, non importa. ok, allora questa si chiama funzione integrale, perché è definita mediante un integrale, e questo teorema cosa mi dice? Mi dice una cosa fondamentale, che diciamo è stata una scoperta, stavolta non più dei, quasi tutto quel che abbiamo visto, era dei greci, ma questo invece è abbastanza recente, non lo so, penso sia stato osservato da Newton, Leibniz, insomma, la scoperta fondamentale è che la funzione integrale ha un legame con le derivate, perché? Allora, la funzione integrale è derivabile, e vale che cosa? che la sua derivata non è altra che la funzione integranda. Quando io integro una funzione, questa è la funzione, si può chiamare funzione integranda. Ok, quindi sto dicendo che l'integrale di una funzione continua se io faccio variare un estremo di integrazione, quello superiore, poi magari vediamo cosa succede, se varia quello inferiore non cambia molto, ma diciamo, in realtà è importante che sia quello superiore, e beh, allora ottengo una funzione la cui derivata è la funzione integrale. In particolare, per calcolare l'integrale, sarà sufficiente invertire l'operazione di derivata, quindi l'integrale e la derivata in un certo senso sono uno l'inverso dell'altro. Questo è il concetto fondamentale di questo teorema, che integrare una funzione, nel senso di costruire la funzione integranda, è l'operazione inversa della derivata. Ok? Lo ripeto, no? Perché se f grande è l'integrale di f piccolo, allora f piccolo è la derivata di f grande. Va bene? E poi c'è un'osservazione che poi è quello che si usa in pratica che si chiama inoltre, diciamo, che si chiama formula fondamentale, inoltre, se g è una qualunque funzione con questa proprietà, ora vedremo che, come spesso accade, no, in realtà non c'è un'unica inversa, cioè queste funzioni che hanno come derivata f piccolo ce ne possono essere più di una, ce ne saranno infinite, se g ha questa proprietà, se g è una funzione, è una funzione derivabile tale che g' è uguale a f di x, cioè se g, g potrebbe essere f grande stessa, potrebbe essere la funzione integrale, ma potrebbe essere una qualunque altra funzione che ha questa proprietà, che la sua derivata è f piccolo, allora, io cosa scopro? Che l'integrale, posso fare, posso calcolare l'integrale tra due punti qualunque di f, l'integrale tra il b di f non è altro che g di b meno g di a e questo si chiama, diciamo, questo è importante, lo riquadriamo tre volte e si chiama formula fondamentale del calcolo integrale, sempre, siamo sempre nel calcolo integrale, del calcolo, sì, ok? Ed è quello che si usa, questa formula è quello che si usa per fare l'integrale, se voi avete già visto gli integrali, penso di sì, molti vi vediamo già visto a scuola, si calcolano usando questa formula, che però va dimostrata, non è una cosa, diciamo, vorrei togliervi l'idea che questo è un risultato banale, perché l'errore più grosso che voi potete fare riguardo a questo teorema è pensare che questa sia la definizione di integrale, questa non è la definizione di integrale, questo è un risultato, un teorema che si dimostra e che mette in relazione due concetti apparentemente molto distanti tra loro, perché qui g è una funzione che ha come derivata f, quindi sto prendendo il concetto di derivata, il limite del rapporto incrementale, quello che sta a sinistra non ha niente a che fare con le derivate, è, no, l'integrale tra b e f si definisce come, non so, l'estrema inferiore delle somme superiori della funzione f piccola, quindi a priori non c'è nulla a che fare con le derivate, quindi questo è un risultato in realtà molto profondo e che insomma in qualche modo ha rivoluzionato il calcolo, nel senso per trovare gli integrali in realtà quello che si, dal punto di vista pratico quello che si scopre è che calcolare gli integrali di per sé è un'operazione molto difficile se uno usasse la definizione, abbiamo provato a farlo in alcuni casi semplici e già diventa molto difficile, invece calcolare le derivate abbiamo visto che è abbastanza facile, quindi questo teorema si utilizza per calcolare gli integrali conoscendo le derivate ok va bene osserviamo un'altra osservazione che possiamo fare che quando scrivo che f grande è derivabile la sua derivata è f piccolo nell'ipotesi sappiamo che f piccolo è continua quindi f grande non solo è derivabile ma la derivata è continua e quindi è di classe c1 ok qui potremmo dire che f grande è di classe c1 non c'è scritto perché è implicito no? se la derivata è una funzione continua quindi f grande risulta di classe c1 è lo stesso questa g se io chiedo che la derivata sia f piccolo e visto che f piccolo è continua anche nella seconda parte rimane quell'ipotesi che f sia continua vale questa proprietà a e b sono punti qualunque a e b sono punti qualunque dell'intervallo su cui è rifinita f piccolo e questo è quanto altre osservazioni che forse non ci sono scritte questo integrale ha sempre senso perché siccome f continua su tutto l'intervallo i osservate che questo intervallo può essere limitato e limitato aperto chiuso non importa ma siccome f piccolo è continua su tutto i in particolare continua sull'intervallo chiuso e limitato x con 0x che è un soppinsieme di i e anche qui dove varia x x con 0 è un punto dell'intervallo ma ovviamente anche x è un punto dell'intervallo e la funzione f grande quindi è definita su ogni punto dell'intervallo f grande è definita sullo stesso intervallo in cui è definita f piccolo ok? se f piccolo è continuo sull'intervallo i la funzione integrale è ben definita perché su ogni intervallo x con 0x che adesso è un intervallo chiuso e limitato f piccolo è integrabile perché essendo continua è integrabile ok? quindi cioè per dire la funzione x quadro va bene in questo teorema è una funzione continua anche se non è uniformemente continua non importa perché è integrabile su ogni intervallo limitato perché sugli intervalli limitati si che è uniformemente continua ok? quindi abbiamo abbiamo detto tutto su questo enunciato si possiamo fare la dimostrazione che tutto sommato ora abbiamo tutti gli strumenti non dovrebbe essere complicata vabbè quindi devo cancellare qui qualcosa quindi dimostrazione possiamo dimostrare f grande abbiamo detto è ben definita è l'integrale tra gli x quello è un integrale di una funzione integrabile quindi è ben definita dobbiamo dire che è derivabile in ogni punto beh quindi consideriamo il rapporto incrementale di f grande f di x più h meno f di x proprio h e vorremmo dimostrare che per h che tende a 0 questo limite esiste ed è uguale proprio a s piccolo quello che dobbiamo dimostrare è che la derivata di f grande è f piccolo in ogni punto x va bene ma questo che cos'è? questo è l'integrale tra i no ricordatevi f grande di x più h al posto di x ci devo mettere x più h quindi questo è l'integrale tra x come 0 e x più h di f piccolo lasciatemi scrivere semplicemente f piccolo non è quella variabile non è rilevante meno l'integrale di x con 0 e x di f piccolo tutto diviso h allora per l'addittività che abbiamo appena visto comunque siano questi x x con 0 e h non importa se h è positivo o negativo se x è maggiore o minore di x con 0 comunque questa differenza non è altro che l'integrale tra x con 0 e x più h meno l'integrale tra x con 0 e x non è altro che l'integrale tra x e x più h di f e qui c'è 1 su h ok questa è l'addittività dell'integrale rispetto agli estremi e in base alle osservazioni che ho fatto prima non importa in che ordine sono diciamo voi potete pensare che siano messi così se sono messi in quest'ordine x maggiore di x con 0 e x più h maggiore di x avete l'integrale tra x con 0 e x più h questo integrale l'integrale su questo intervallo meno l'integrale tra x con 0 e x meno questo integrale ma siccome l'integrale tra x con 0 e x più h è la somma dei due integrali tra x con 0 e x e tra x e x più h quando taggete uno dei due vi rimane l'altro ok cioè voi pensate al caso in cui siano tutti bene ordinati o a qualunque caso in realtà qualunque scelta voi poniate e questo è sempre vero va bene ora se h è positivo questo non è altro che la media di f possiamo usare il teorema della media teorema della media integrale vi ricordate c'è l'ipotesi che f sia una funzione continua quindi possiamo usare il teorema della media perché abbiamo questa ipotesi cosa vi dice il teorema della media che l'integrale tra a e b di f diviso l'ampiezza dell'intervallo b meno a che in questo caso è proprio h è uguale a f in un qualche punto in un punto c dell'intervallo ora questo è vero se h è positivo ma in realtà è vero anche se h è negativo perché anche il teorema della media integrale vale anche quando gli estremi sono scambiati se h è negativo voi potreste dire dovesse scambiare gli estremi quindi vi cambia un segno quindi trovereste che f di c è uguale all'ampiezza dell'intervallo per cioè che l'integrale che l'integrale tra insomma se h è negativo l'integrale tra x più h e x di f diviso il valore assoluto di h perché h è negativo questo è uguale a f di c ma visto che h è negativo questo è proprio meno h e questo è meno l'integrale quindi diciamo funziona torna tutto se h è negativo voi dovete voi cambiate gli estremi di integrazione cambiate un segno ma anche h qui cambia negativo quindi un segno meno insomma vale la stessa identica cosa ok? se h è negativo è vero questo che è esattamente la stessa cosa perché questo segno meno lo mettete sull'integrale e tornate a scambiare gli estremi di integrazione quindi diciamo il teorema della media integrale vale di nuovo vale anche se gli estremi sono scambiati se voi dividete non per il valore assoluto di b meno a ma dividete proprio per b meno a ok? quindi se gli estremi sono scambiati b meno a è negativo ok va bene allora questo c in realtà dipende da h dipende da h ma c sta di nuovo se h è positivo sta nell'intervallo x x più h se h è negativo sta nell'intervallo x più h x diciamo vista quello che possiamo dire è che c meno x è minore o uguale di h vista da x meno di h sta in un intervallino qui diciamo l'idea in realtà è molto semplice qui abbiamo preso x più h e la differenza tra i due integrali non è altro che l'area di questa piccola strisciolina quando faccio il rapporto incrementale la differenza tra quei due integrali quello che sta al numeratore è questa piccola area blu quando h è piccolo questa è una piccola area e abbiamo visto che quest'area è uguale con il teorema della media al valore della funzione in un punto c che sta qui in mezzo c'è un punto c diciamo l'area di quella regione blu è equivalente a un rettangolo di altezza f di c dove c è un punto intermedio e di base h quindi se divido per h mi rimane f di c divido per h mi rimane f di c ma questo c ora quando h tende a 0 è costretto a tendere a x perché sta in questo intervallino se h tende a 0 c tende a x perché d sta da x per meno di h e quindi f di c di nuovo siccome f continua se c tende a x f di c tende a f di x qui di nuovo abbiamo usato la continuità continuità che avevamo già usato anche nel teorema della media il teorema della media richiede la continuità e poi di nuovo usiamo la continuità anche per concludere va bene? quindi questo limite esiste ed è uguale a f di x quindi la funzione f grande è derivabile e la sua derivata è f piccolo questo conclude la prima parte del teorema va bene? quindi avevamo tutti gli strumenti per fare sì che questo teorema abbia una dimostrazione una dimostrazione elementare è un modo complicato per dire che se h è positivo c sta in x x più h però se h è negativo x più h è minore di x e sta in questo insieme cioè potrei dire se gli estremi sono scambiati non è chiaro cosa sia l'intervallo a b se b è minore di a dovrebbe essere un insieme vuoto b per sé quindi per dire che c diciamo c è compreso tra x e x più h ora non so se x più h è più grande è più piccolo di x ma in ogni caso c è compreso tra i due lo scrivo in questa maniera complicata la cosa importante è che c quindi dista da x questo punto c potrebbe essere a sinistra di x quando h è negativo anzi sicuramente se h è negativo si trova a sinistra di x ma non cambia niente in ogni caso comunque dista da x per meno di h quindi se h tende a 0 c tende sicuramente a x va bene? ora vediamo la seconda parte che anche in questo caso è semplicemente un'osservazione importante però in realtà è una conseguenza di questa è una banale diciamo un'osservazione dunque in realtà sarebbe utile sarebbe utile avere va bene seconda parte quindi nella seconda parte noi abbiamo una funzione G grande la cui derivata è f piccolo da qualunque funzione la cui derivata è f piccolo diciamo qual è l'idea se G grande fosse f grande noi abbiamo visto che f grande è a come derivata f piccolo allora il risultato sarebbe ovvio perché osserviamo questo che f di b meno f di a se io prendo la funzione f grande definita come l'integrale f grande di x è l'integrale tra x con 0 e x di f piccolo allora f grande di b meno f grande di a questo è l'integrale tra x con 0 e b di f piccolo meno l'integrale tra x con 0 e a di f piccolo e di nuovo per l'addittività degli integrali questo non è altro che l'integrale tra a e b di f piccolo ok perché l'integrale tra x con 0 e b è uguale all'integrale tra x con 0 e a più l'integrale tra a e b questa è la solita addittività dell'integrale quindi certamente questa è la formula fondamentale del calcolo integrale l'integrale tra e b di f è la funzione integrale la differenza della funzione integrale calcolata negli estremi di integrazione ma se è vero per f grande in realtà è vero per ogni g perché c'è un risultato generale una banalità ma diciamo che possiamo dare un enunciato a parte quindi osservazioni se se g' di x è uguale a f' di x per ogni x appartenente a un intervallo io dico che quindi ho due funzioni che hanno la stessa derivata ed è quello che succede qui perché abbiamo dimostrato che f grande ha come derivata f piccolo e g grande per ipotesi anche lei ha come derivata f piccolo quindi abbiamo due funzioni che hanno la stessa derivata allora io dico che se due funzioni hanno la stessa derivata su un intervallo e questo in realtà è importante allora esiste un numero c tale che g grande è uguale a f grande tc cioè due funzioni con la stessa derivata differiscono per una costante ok? e questa è un'osservazione importante di per sé e lo si dimostra però facilmente perché perché io chiamo diciamo questa costante cos'è? la differenza tra le due funzioni quindi io chiamo h la differenza tra le due funzioni questo sarebbe g grande meno f grande e quello che scopro è che se g grande e f grande hanno la stessa derivata allora h la derivata di h è la differenza delle derivate ma se hanno la stessa derivata questa differenza è zero allora una funzione che ha derivata zero su un intervallo per i criteri di monotonia è costante h è identicamente a volte si scrive così qualunque sia x h di x è uguale a c è costante per i criteri di monotonia perché la derivata è diciamo h è sia crescente che decrescente e quindi è costante l'abbiamo visto nei criteri di monotonia diciamo uno se lo ricorda forse più facilmente così h' maggiore o uguale di zero implica che h è crescente h' minore o uguale di zero significa che h è decrescente no? questi sono i criteri di monotonia h' uguale a zero significa che h è costante perché è contemporaneamente crescente e decrescente quindi è costante se volete diciamo se vi ricordate come si dimostra semplicemente il teorema di Lagrange è il teorema di Lagrange se avete una funzione che ha derivata nulla per il teorema di Lagrange il rapporto incrementale è zero in tutti i punti perché è uguale alla derivata in un punto intermedio ma se la derivata è nulla vuol dire che il rapporto incrementale è sempre zero vuol dire che la funzione è costante se volete ridimostrarlo questo è il teorema di Lagrange non è un fatto ovvio la derivata di una costante è zero e questo è vero sempre se la derivata è zero e però c'è l'ipotesi importante se siamo su un intervallo allora la funzione è costante però l'abbiamo già visto questo dovete fare mente locale e ricordarvi che l'abbiamo già visto in ogni caso insomma si dimostra facilmente con il teorema di Lagrange ok va bene allora se se è vero questo e questo è un fatto generale che poi ora riprenderemo quindi va è bene è bene saperlo se è vero questo quanto fa g di b meno g di a beh g differisce da f per una costante quindi questo ora qui forse non mi sta ma questo è f di b g è uguale a f più una costante quindi f di b più c meno f di a più c c'è un segno c'è un segno meno in mezzo la costante è la stessa cioè g e f distriscono per una costante vuol dire che in tutti i punti c'è sempre la stessa la stessa differenza quindi questo c si cancella e quindi rimane uguale questo è uguale a f di b meno f di a ok? se due funzioni hanno la stessa derivata e se siamo su un intervallo la differenza delle due funzioni sullo stesso intervallo coincide ok? cioè per voi fisici queste funzioni sono dei potenziali voi sapete che il potenziale è definito a meno di una costante non ci interessa qual è il livello zero del potenziale perché quello che mi interessa del potenziale è solo la variazione di potenziale l'energia potenziale per esempio è la stessa cosa che succede qui insomma il potenziale è esattamente una funzione che ha derivata assegnata va bene? quindi questo dimostra anche la formula fondamentale e conclude conclude il teorema va bene? ok? allora perché questo teorema è così importante beh lo capiamo subito con un esempio esempio calcolare esempio calcolare per casa calcolare l'integrale tra 0 e b di x quadro ora se uno questo si può fare con la definizione di integrale si può fare prendendo delle suddivisioni dell'intervallo 0 b prendendo quindi le somme superiori e le somme inferiori si calcolano si sceglie una suddivisione opportuna magari in intervalli equispaziati per cui riesco a calcolare la differenza tra somme superiori e somme inferiori riesco a dimostrare che tende a 0 quindi questa funzione riesco a dimostrare che è integrabile poi trovo quella somma utilizzando una sapendo quanto fa la somma di k quadro per k che va da 1 a n quant'è la somma dei primi k quadrati no? perché in quelle somme parziali viene una cosa del genere questo ha qualche polinomio di terzo grado in n che non mi ricordo e si riesce a trovare quanto vale questo integrale beh in realtà ora con questo teorema tutta questa fatica è inutile perché come si può calcolare questo integrale è sufficiente trovare una funzione quindi basta trovare una funzione g grande tale che la sua derivata sia uguale alla funzione integrande x quadro ok? e ora quindi quello che faremo questa settimana sarà imparare a risolvere questo problema cioè trovare quello che chiameremo le primitive di una funzione cioè funzioni che hanno come derivata una certa funzione data mi viene data una funzione voglio invertire l'operazione di derivata trovare una funzione g grande che ha come derivata la funzione f piccolo ma diciamo uno in questo caso può andare per tentativi e scopre che per esempio g grande di x x cubo terzi ha questa proprietà per verifica diretta la derivata di x cubo terzi la derivata di x cubo è 3x quadro diviso 3 da x quadro quindi quindi questa funzione comunque sia diciamo piovuta dal cielo ha questa proprietà ha come derivata x quadro e quindi posso utilizzarla nel teorema fondamentale e quindi so che l'integrale per 0 e b di x quadro non è altro che g di b meno g di 0 che è b cubo terzi g in 0 fa 0 e quindi è b cubo terzi ok molto semplice rapido e è veloce quindi qui diciamo c'è un avanzamento dalla matematica dei greci il povero Archimede faceva questo integrale lo faceva così l'area che sta sotto la parabola era costretto a fare queste approssimazioni approssimava no quello che abbiamo calcolato è l'area l'area quello che si chiama l'area di un settore di parabola y uguale x quadro abbiamo abbiamo trovato quest'area qui che è che cosa diciamo se questo se questo è b questo è b quadro quindi è un terzo dell'area del rettangolo con cui ho tagliato la parabola il rettangolo avrebbe area base b e altezza b quadro quindi area b cubo e in generale l'area di un settore di parabola è un terzo dell'area del rettangolo corrispondente questo era noto era noto ai greci ma di certo non lo dimostravano così quindi questo è un forse per la diciamo il primo vero netto avanzamento rispetto a quello che facevano già direi 2000 anni fa ok comunque e questo è più è più recente quindi ora noi vogliamo raffinare questa tecnica di invertire la derivata abbiamo una funzione in questo caso avevamo x quadro il problema è risolvere questo problema cioè trovare una funzione di cui quella è la derivata significa invertire l'operazione di derivata quindi la derivata di l'intera fondamentale è la differenza tra sono superiori e inferiori no non è la differenza tra sono superiori e inferiori perché sono no diciamo sono cose diverse no perché rifaccio il disegno di prima la funzione integrale mi mi rappresenta io fisso in qualunque punto x con 0 qui fisso x la funzione integrale è questa è quest'area e il rapporto incrementale è invece il limite io prendo l'area una piccola area tra x e x più h prendo quest'area e la divido per h quindi faccio la media della funzione su questo su questo piccolo intervallino e quello è la funzione integrale cioè la derivata dell'area è abbastanza naturale in effetti io sto dicendo che se io prendo l'area e faccio variare un estremo la derivata dell'area quanto sarà diciamo è il limite dell'area di questa striscia diviso la base ma l'area di questa striscia sarà più o meno base per altezza se io diviso per la base mi rimane l'altezza che è f ok quindi è abbastanza naturale no? questo questa altezza è è circa f è circa f di x quando h è molto piccolo si avvicina a essere sempre di più f di x quindi l'area di per rettangolino è f di x è circa f di x per h se divido per h rimane f di x questo è molto semplice non l'idea di questo risultato ok però ecco perché diciamo perché i greci non ci sono arrivati a questa cosa perché non avevano il concetto di limite formalizzato come noi ma poi non avevano il concetto di di funzione non avevano diciamo la rappresentazione cartesiana delle curve loro lavoravano con tutto con curve geometriche non c'avevano l'algebra diciamo le x non c'erano non c'erano neanche le variabili non esistevano tantomeno le funzioni e quindi era difficile intuire un fatto del genere perché tutto sommato diventa un fatto algebrico trovare la primitiva di x quadro è un fatto algebrico non è più un problema né fisico né geometrico è proprio una questione diventa una nuova operazione che ne sappiamo fare ed è quello che ora vogliamo vogliamo fare perché d'ora in poi se voi dovete calcolare l'integrale di una funzione continua probabilmente quasi certamente il metodo più semplice è questo trovarne una primitiva cioè una funzione alla cui derivate la vostra funzione e valutare la primitiva negli estremi di integrazione forse prima di buttare puntarci in questa cosa che ci occuperà sicuramente tutta la settimana forse anche quella quella dopo vediamo quando è invece che le cose vanno male ora come al solito per noi matematici è importante anche capire che le ipotesi del teorema sono in realtà importanti in particolare cosa succede se la funzione integrande non è continua quindi facciamo un esempio abbiamo fatto un esempio positivo dove le cose vanno bene x quadro è una funzione continua quindi si può applicare il teorema fondamentale del calcolo ma cosa succede se io ho una funzione che non è continua ad esempio la più semplice funzione che mi può venire in mente è la funzione di heavy side che abbiamo già visto mi pare che vale 0 se x è minore di 0 e vale 1 se x è maggiore o uguale di 0 quindi è una funzione di cui il grafico è questa in 0 non lo so se l'avevamo definita 0 o 1 non cambia molto comunque la definiamo è importante definirla anche in 0 qui l'abbiamo definita che vale 1 quindi qui c'è un pallino vuoto questo è il grafico della nostra funzione se io prendo la funzione integrale f di x prendo l'integrale tra 0 e x di h di t in di t ora questo integrale diciamo qui non si applica il teorema fondamentale del calcolo integrale perché la funzione integranda non è continua che è un'ipotesi che era diciamo avete visto la dimostrazione l'abbiamo usata due volte nella dimostrazione quindi sembra essere un'ipotesi importante però questa funzione la possiamo la possiamo calcolare diversamente beh innanzitutto sappiamo che è integrabile se volete perché è una funzione crescente questa quindi è integrabile banalmente per il criterio di integrabilità e non solo ora qui calcolarne l'integrale ora quanto fa questo integrale diciamo bisogna distinguere due casi se x è positivo o x è negativo se x è positivo io sto facendo l'integrale tra 0 e x di quale funzione se x è positivo sto facendo l'integrale della funzione 1 quindi questo è l'integrale tra 0 e x di 1 in di t io sto dicendo che l'integrale di una funzione dipende solo dai valori che la funzione assume nell'intervallo in cui la sto integrando non serve che guardo fuori quindi se io guardo sull'intervallo 0 e x questa funzione vale identicamente 1 e 1 è una funzione continua non solo è costante e quindi so quanto vale il suo integrale ma se l'integrale tra 0 e x non è altro che l'area di questo rettangolo che è x quindi questo è uguale a x se x è maggiore di 0 ok e cosa succede se x se x maggiore o uguale anche a 0 se fate l'integrale tra 0 e 0 l'integrale tra a e a di qualunque funzione definita in a è 0 e quindi se x è uguale a 0 a maggior ragione questo vale 0 se x è negativo beh se x è negativo la cosa leggermente è più complicata perché c'è una funzione che vale sempre 0 tranne nell'estremo destro vale sempre 0 tranne che in un punto e allora qui bisogna usare quel risultato che abbiamo che vi ho enunciato la volta scorsa senza dimostrazione vi ho detto più o meno come si fa la dimostrazione ma l'idea è che l'area del sottografico di questa funzione qui è tutto 0 c'è solo questo segmento verticale quindi si capisce quant'è l'area di un segmento è 0 sempre cioè l'idea è che che se voi prendete una funzione e la modificate in un punto l'integrale non cambia perché la modifica in un punto non non influenza l'area ci sarebbe quel teorema che vi ho solo enunciato la volta scorsa che spero si dimostra abbastanza facilmente e lo trovate sugli appunti ma diciamo intuitivamente è chiaro io sto facendo l'area di una regione che è data diciamo dall'unione di due segmenti quindi quest'area è 0 quindi è 0 se x è minore di 0 quindi avete che la funzione f è grande l'integrale di questa funzione discontinua è 0 fino a 0 ed è x per x maggiore di 0 questo è y uguale a s grande di x beh questa funzione non è derivabile questo è un esempio di funzione che nel punto 0 non è derivabile e quindi diciamo il teorema fondamentale di per sé non vale perché questa funzione integrale beh in realtà diciamo è derivabile in tutti i punti tranne che in 0 e dove è derivabile in effetti la derivata è 0 per x minore di 0 ed è 1 per x maggiore di 0 quindi dove è derivabile in effetti coincide con questa funzione il problema è che però non è una funzione derivabile ovunque in 0 non è definita la derivata e quindi diciamo tantomeno è uguale al valore della funzione esattamente sì 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 è esattamente la stessa cosa diciamo se io qui avessi messo meno 1 mi sarebbe venuto il valore assoluto in effetti ma abbiamo messo 0 abbiamo messo 0 va bene quindi questo è l'esempio di la continuità è importante perché se la funzione integranda non è continua come in questo esempio la funzione integrale potrebbe non essere derivabile ovviamente nei punti in cui la funzione integranda non è continua quindi se io sto lontano dal punto cattivo io il teorema fondamentale lo potrei utilizzare in un intervallo diciamo sulle x positive o sulle x negative quindi non è sorprendente il fatto che questa funzione in realtà dove è derivabile ha la derivata giusta cioè la sua derivata è uguale alla funzione integrale però non è derivabile in tutti i punti e quindi il teorema per come ve l'ho enunciato non vale in questo caso va bene quindi l'ipotesi di continuità si usa ed è anche necessaria altrimenti l'enunciato non può essere non può essere vero quindi tolto il fatto che ci sono degli esempi in cui non si può applicare almeno non direttamente il teorema fondamentale rimane il fatto che quando la funzione integrande continua diciamo è comunque una situazione molto generale e quindi ci dedichiamo ora a che cosa alla alla ricerca della primitiva quindi vi devo dire ne vogliamo risolvere questo tipo di problemi questa funzione G grande ora vi do la definizione questa funzione G grande si dice essere una primitiva di quella funzione integrande quindi introduciamo questo concetto la definizione di primitiva diremo che F grande è una primitiva di di F piccolo semplicemente se la derivata di F grande è uguale a F piccolo ok come mai si chiama primitiva il mio collega di matematica che fa il corso di là quando siccome sta a disegnare molto bene la ricerca della primitiva lui disegna questo cavernicolo che cerca che cerca la 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 questo uomo con la clava che porta per i capelli comunque perché si chiama primitiva perché in effetti qui c'è F qui c'è F grande e qui avete l'operatore di derivata cioè noi sappiamo fare le derivate che vuol dire prendere una funzione e calcolarne la derivata quindi andare in avanti qui fare la derivata è quasi sempre un'operazione molto semplice ma scoprire chi viene prima cioè questa è la primitiva perché viene prima di fare la derivata quindi andare all'indietro scopriremo che è molto più complicato quindi cioè è vero che questo che questo metodo semplifica di molto il calcolo degli integrali però comunque non è così semplice come fare una derivata calcolare un'integrale anche attraverso le primitive beh richiede di invertire l'operatore di derivata quindi andare alla funzione che viene prima e questo comunque non sarà proprio banale come spesso accade insomma vedete anche in questo caso questo è un problema di trovare la funzione inversa al solito capire avete una funzione in questo caso la derivata volete trovare la funzione inversa che è appunto la primitiva va bene quindi primitiva è un concetto banale e vedete che non c'entra niente con gli integrali cioè ora noi stiamo pensando questo si chiama spesso trovare la primitiva si dice integrare una funzione ma perché c'è di mezzo il teorema fondamentale del calcolo integrale perché di per sé trovare le primitive non c'entra niente con gli integrali c'entra con le derivate noi potevamo questo problema studiarlo appena introdotte le derivate potevamo chiederci studiare il problema di trovare la funzione inversa della derivata che in effetti per gli anglosassoni ha un nome un po' più più chiaro invece che primitiva loro lo chiamano antiderivate per capire che è un concetto legato alle derivate non agli integrali ok questo è il solito diciamo insisto molto perché capita sempre che qualcuno confonda le due cose quindi integrare una funzione nel senso di trovare una primitiva c'entra con le derivate non con gli integrali va bene allora quindi il nostro problema è trovare le primitive e giusto per complicare ancora di più il concetto per mescolare le due cose introduciamo una notazione che è quello di integrale indefinito l'integrale indefinito è questo concetto quindi è sempre continuo questa definizione se io prendo l'insieme di tutte le primitive quello che scopriremo è che le primitive non vanno mai da sole abbiamo visto prima che insomma è facile vedere che se due funzioni differiscono per una costante hanno la stessa derivata e quindi funzioni che differiscono per una costante se una delle due è una primitiva lo è anche l'altra per cui non c'è questo operatore sicuramente non è iniettivo non è iniettivo è un operatore tra l'altro è un operatore lineare non la derivata quindi l'iniettività si può vedere guardando il nucleo dell'operatore come avete fatto la geometria all'algebra lineare un operatore lineare è iniettivo se e solo se il nucleo è fatto solo dal vettore 0 qual è il nucleo di questo operatore? sono le funzioni la cui derivata è 0 e beh tutte le costanti hanno derivata 0 quindi questo il nucleo di questo operatore sicuramente non è solo lo 0 non è solo 0 cioè sono tutte le funzioni costanti si? quindi la compressione derivata di me non è solo il nucleo come faccio a dire che c'è l'algebra è l'inversa esatto ora vediamo in che senso infatti è un'inversa tra virgolette quindi diciamo se io faccio in questo senso che io posso fare d-1 ora questo ha perfettamente senso no? d-1 dell'insieme f cioè se io ho una funzione qualunque non c'è la funzione inversa ma io posso fare l'inverso di un insieme di elementi e questo mi verrà un insieme cioè chi è d alla meno 1 di f siccome f non è giustamente non è invertibile perché non è iniettivo io però posso prendere tutte le controimmagini di un punto e ottengo un insieme di funzioni che è l'insieme diciamo di meno 1 di f per definizione è l'insieme di tutti gli f grandi tali che f' f' uguale a f piccolo ok? la contraimmagine di un punto sono tutti i punti che vanno in quello cioè sono tutti i punti in cui di grande f' è uguale a f piccolo cioè la derivata di f grande è f piccolo e cioè è l'insieme di tutte le primitive insieme di tutte le primitive tutte le primitive di f piccolo quindi quello che noi andremo a considerare è l'insieme di tutte le primitive e questo come notazione ok? non c'entra niente con gli integrali allora per confondere le idee lo chiamiamo integrale indefinito integrale indefinito di f e anche qui potete metterci f di x in di x se avete bisogno di scrivere la funzione con una variabile potete mettere quella è una variabile muta e questo si chiama integrale indefinito perché si chiama integrale indefinito perché ora ora capiremo come mai usiamo questo simbolo ok? la cosa importante che voi vi accorgete della definizione è che l'integrale qui non c'entra io sto parlando di invertire la derivata però c'è il teorema fondamentale che mi dice che quando io inverto la derivata ottengo qualcosa che c'entra con gli integrali per questo motivo questo si chiama integrale indefinito perché la notazione è quella degli integrali solo che non sono definiti gli estremi di integrazione cioè dal punto di vista delle notazioni io riconosco che questo non è un integrale ma è una primitiva diciamo perché non ci sono gli estremi di integrazione qui a e lì ok? quindi se ci sono i due estremi quello è l'integrale è un numero se non ci sono gli estremi è un insieme di funzioni le cui derivate sono la funzione tra virgolette integrande no non c'entra ecco non c'entra niente vedremo gli integrali su tutto R ma non sono la stessa cosa no questo è un insieme di funzioni ok? sono tutte le primitive e insomma insisto non c'entra con gli integrali se non per il nome che gli diamo e per il simbolo che gli diamo cioè come mai in realtà c'entra con gli integrali perché cosa mi dice il teorema fondamentale del calcolo integrale mi dice che se F continua cosa che qui non era diciamo per definire la primitiva io non non ho bisogno di chiedere che F piccolo sia continua è possibile che una funzione è possibile non è molto facile abbiamo visto un solo esempio ma è possibile che una funzione non continua sia la derivata di qualcosa e se ci pensate un attimo è un esempio che abbiamo già visto ok? dati un altro termine è possibile che la derivata di una funzione non sia continua l'abbiamo visto quindi di per sé non è richiesto in questa definizione io non chiedo niente su F piccolo perché non serve diciamo F grande dovrà essere derivabile perché qui c'è la sua derivata se diciamo qui se volete potete scrivere che F grande è derivabile ma è sottinteso nel momento in cui io nomino la derivata sto implicitamente richiedendo che sia derivabile quindi F grande è derivabile la sua derivata è F piccolo se F piccolo è continua io so che il teorema fondamentale del calcolo mi dice che se F grande è una primitiva di F piccolo ok? sto usando questa notazione questo è l'integrale indefinito di F piccolo è l'insieme delle primitive ora per un attimo usiamo le notazioni precise diciamo F grande è un elemento di questo insieme perché questo è un insieme di funzioni se F grande è una primitiva di F piccolo questo è un modo diciamo equivalente di enunciare il teorema del calcolo integrale allora l'integrale tra A e B di F piccolo è uguale a F di B meno F di A allora siccome questa operazione prendere una funzione e farne la differenza su due in due punti ora ci capiterà di doverlo fare molte volte e siccome la funzione F magari è un'espressione abbastanza lunga e non vogliamo scriverla due volte qui usiamo una notazione che è questa F grande valutato tra A e B ok questa è una nuova notazione che forse avrei dovuto darvi prima in effetti mi sono dimenticato semplicemente per abbreviare le notazioni invece di scrivere F due volte la scrivo una volta sola tra parentesi quadre e faccio ci metto degli estremi A e B questo per definizione è F di B meno F di A quindi io sto dicendo che questo è l'integrale di F piccolo valutato tra A e B cioè vedete come c'è una una perfetta analogia tra queste due notazioni l'integrale definito l'integrale questo a questo punto si potrebbe chiamare l'integrale questo è l'integrale quello vero diciamo ma si potrebbe chiamare per contrapposizione all'altro l'integrale definito è l'integrale indefinito una qualunque primitiva valutato tra gli estremi di integrazione quindi prendo un integrale indefinito e definisco gli estremi in quel modo lì ok questo è il teorema fondamentale del calcolo qui ho usato qui ho usato il teorema fondamentale del calcolo quindi il fatto che ci sia un legame tra l'integrale indefinito e l'integrale è dovuto a questo teorema non è una definizione ok quindi in particolare l'integrale ripeto ormai per la terza volta l'integrale tra B e di F non è per la sua definizione non è questa questa non è la definizione di integrale non significa prendere una primitiva e valutare la fraidi quello è il metodo è un metodo che noi usiamo per calcolarlo ma la definizione è diversa ok allora questo giustifica giustifica questa notazione cioè noi usiamo la stessa notazione degli integrali la usiamo per le primitive perché in effetti c'è un legame tra primitive e integrali e quello che faremo noi ora diremo che stiamo integrando le funzioni quando in realtà stiamo cercando le primitive perché in effetti cercare le primitive è sostanzialmente equivalente a trovare gli integrali quindi c'è questo abuso se volete di notazione che vi fa sempre pensare che gli integrali siano le primitive non è così c'è un teorema che lega le due cose non ho capito l'uguaglianza dipende dal fatto che questo è vero qualunque sia cioè se io prendo questo insieme di funzioni cosa significa valutarlo tra i b significa prendere tutti i possibili le possibili valutazioni ma quello che succede cioè dovrei scrivere forse così questo è un insieme però ha un solo valore perché qualunque sia la primitiva il teorema fondamentale del calcolo ah scusate f continua e serve anche che vabbè sia definita sull'intervallo ora ab ovviamente f è definita su ab e tanto basta quindi ab è sicuramente un intervallo ma diciamo è importante che siamo sull'intervallo perché qualunque funzione io scelgo in questo insieme questo il risultato che ottengo è lo stesso quindi ottengo sempre lo stesso numero che è proprio cioè scusate questo è già un insieme cioè dovrei mettere qui l'insieme se volessi essere proprio precisissimo ovviamente tutto questo in realtà poi in pratica non si in pratica non useremo questi simboli ma se volessi essere preciso l'insieme che contiene questo valore è uguale all'insieme che contiene si può scrivere così si può scrivere così ed è uguale a questo insieme perché questo è un insieme di numeri che guarda caso hanno sempre un solo elemento perché qualunque sia la funzione la primitiva ottengo sempre lo stesso quando faccio la differenza in due punti ottengo sempre lo stesso risultato quindi formalmente sì diciamo formalmente io dovrei dire che questo è un insieme e quindi che insieme è? è l'insieme che ha un unico valore che è proprio quello dell'integrale va bene allora rimaniamo ancora sul formale quindi l'integrale indefinito è l'insieme delle primitive e quindi osservazione o teorema osservazione cioè l'osservazione che abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto se f appartiene a se f è una primitiva è l'osservazione che abbiamo già fatto durante la dimostrazione del teorema fondamentale se f' se f' è uguale a f piccolo cioè se f' è una primitiva di f piccolo allora f' più c pure è una primitiva di f piccolo cioè se io sommo una costante per ogni c appartenente a r f' più c è ancora una primitiva cioè se io sommo una costante a una primitiva ottengo un'altra primitiva vuol dire che l'insieme delle primitive se non è vuoto ora vediamo se secondo voi potrebbe essere vuoto l'insieme delle primitive se l'insieme delle primitive non è vuoto sicuramente ha infiniti elementi perché se c'è un un solo anche un solo elemento io ci sommo una costante f più 1 per esempio anche quella è una primitiva perché in quanto perché in realtà questa è l'altra implicazione nel teorema abbiamo usato il fatto che se due funzioni sono primitive della stessa su un intervallo allora differiscono per una costante ma il viceversa è vero anche se non siamo su un intervallo se io sommo una costante a una qualunque primitiva ottengo ancora una primitiva perché la derivata di f più c è f' più 0 perché la derivata della costante è 0 è uguale a f' che è uguale a f perché questo significa che f' è uguale a f' piccolo ok? quindi l'insieme delle primitive non avrà mai un solo elemento non avrà mai un numero finito a meno che non sia 0 non sia vuoto e questo può succedere per esempio nell'esempio nel caso di prima se voi prendete la funzione di heavy side quali sono le primitive di questa funzione? beh provate a dimostrare che non ce ne sono quindi esempio l'integrale di h la funzione di heavy side è l'insieme vuoto non ci sono primitive di questa funzione nessuna funzione può avere come derivata la funzione di heavy side e provate a pensarci questo è un esercizio che dovreste saper fare abbiamo tutti gli strumenti per verificarlo però forse un po' dal punto di vista teorico insomma bisogna ragionare proprio dal punto di vista teorico è possibile che l'insieme delle primitive sia vuoto beh non certo quando la funzione integrande continua perché se la funzione integrande continua e su ogni intervallo il teorema fondamentale del calcolo integrale mi dice che quantomeno la funzione integrale è una primitiva se f è continua definita su un intervallo allora l'insieme delle primitive di f è diverso dal vuoto perché dentro ci sta quantomeno ci stanno quantomeno tutte le funzioni integrali cioè tutti per il teorema fondamentale del calcolo integrale perché diciamo ci sta quale funzione cioè vedete che qui qui si usano gli integrali qui usiamo veramente gli integrali perché non c'è un teorema astratto che vi dice che data una funzione continua c'è una funzione che ha come derivata quella funzione questo teorema non c'era fino adesso è il teorema fondamentale del calcolo integrale perché come fate a costruire a forza data una funzione continua qualunque di cui non conoscete un'espressione analitica e saprete solo che è una funzione continua come fate a costruire una funzione che ha come derivata proprio quella funzione continua l'unico modo è il teorema fondamentale del calcolo integrale definite f di x come l'integrale per x come 0x di f piccolo allora f grande appartiene all'insieme delle primitive questo vi dice il teorema fondamentale del calcolo integrale ok quindi in particolare questo insieme non è vuoto per diciamo per farvi capire ancora di più questo esempio per chi già conosce gli integrali l'integrale di e alla meno x quadro in dx non è vuoto cioè ci sono primitive la funzione e alla meno x quadro ha primitive che però noi scopriremo non siamo in grado di scrivere sostanzialmente questa è una funzione continua e alla meno x quadro noi ora svilupperemo tutta una tecnica per trovare le primitive di una funzione beh in questo caso tutte le nostre tecniche falliscono perché non c'è nessuno strumento di quelli che io vi insegnerò che vi permette di scrivere una primitiva di questa funzione cioè di trovare una funzione che abbia come derivata e alla meno x quadro ok? si può addirittura dimostrare che che questa le primitive di questa funzione non si scrivono mediante funzioni le funzioni elementari che noi conosciamo ok? quindi però esiste la primitive le primitive di questa funzione esistono questo è diverso dal vuoto esistono delle funzioni che hanno solo che non riusciamo a scrivere ok? va bene quindi l'insieme delle primitive può essere vuoto ma solo se la funzione integranda non è continua se la funzione integrale è continua o diciamo anche definita su un intervallo ora vedremo cosa succede se la funzione è definita su un'unione di intervalli questo non è così grave insomma che sia definita su un intervallo è rilevante però si può in qualche modo ovviare a questo problema se la funzione è continua il teorema fondamentale del calcolo integrale vi dice che esistono delle primitive che sono ad esempio le funzioni integrali sono tutte primitive e poi abbiamo questa osservazione che se esiste una primitiva e io ci somo una costante quella è ancora una primitiva quindi l'insieme delle primitive appena non è vuoto diventa infinito e quindi diciamo non sarà mai una singola una singola funzione ecco l'osservazione questa osservazione si può invertire cioè l'insieme delle primitive è dato da una qualunque primitiva più una costante se siamo su un intervallo quindi e questo è quello che abbiamo visto prima diciamo viceversa qui possiamo aggiungere viceversa se f è definita su un intervallo allora l'insieme delle primitive le primitive di f saranno tutte della forma f più costante con c che varia in r con f una qualunque primitiva cioè il caso tipico il caso tipico è questo cioè voi avete una funzione continua definita sull'intervallo siccome continua c'è almeno una primitiva in realtà già il teodema fondamentale vi dice che ce ne sono infinite che differiscono per una costante beh allora quelle sono tutte le primitive perché se avete due primitive definite sull'intervallo l'osservazione che abbiamo fatto durante il teorema era proprio questa che la loro differenza è costante la differenza di due primitive ha derivata nulla e una funzione con derivata nulla su un intervallo è costante quindi nella situazione diciamo ideale la situazione ideale è questa una funzione continua su un intervallo l'insieme delle primitive è uno spazio vettoriale di dimensione 1 è uno spazio scusate è uno spazio affine di è giusto? di dimensione 1 perché voi prendete ecco in astratto vogliamo fare questo questo ragionamento astratto poi magari cioè la prossima volta andremo proprio sul concreto di come si calcolano le primitive e sarà un po' tutto più più meccanico ma se vogliamo rimanere un po' sull'astratto mettendo assieme tutte queste osservazioni cosa possiamo dire che se f va da i in r i intervallo f continua beh è un fatto che voi a geometria probabilmente avete visto allora l'integrale l'insieme delle primitive di f che cos'è? è la controimmagine la controimmagine del singolo punto da cui i punti di questi spazi vettoriali sono le funzioni quindi la controimmagine di una funzione è per definizione la l'insieme l'integrale indefinita l'insieme delle primitive e sostanzialmente cosa state dicendo? che c'è uno spazio vettoriale di dimensione infinita quindi questo un po' esce da quello che voi avete studiato però in realtà questi teoremi sono validi in generale sugli spazi vettoriali e questo cosa è uguale voi prendete un qualunque punto un qualunque punto f grande un qualunque punto f grande di questo insieme e ci sommate il nucleo di D cioè state dicendo che insieme delle primitive voi avete un punto di questo insieme in qualche modo quello che faremo scopriremo come trovare un punto una funzione che ha come derivata f piccolo tutte le altre sono uno spazio vettoriale uno spazio scusate affine che è parallelo al nucleo dell'operatore D e chi è il nucleo dell'operatore D se siamo su un intervallo sono le funzioni costante e quindi questo è insieme degli f e c con c costante e qui c'è f e qui c'è 0 questo è il nucleo dell'operatore D che sono in realtà le costanti queste sono tutte le costanti nel caso di un intervallo è uno spazio di dimensione 1 dato dalle funzioni costanti questo è uno spazio vettoriale ovviamente perché c'è lo 0 se sommate due costanti rimangono una costante la combinazione lineare di costante è una costante e questo è uno spazio vettoriale e questo è uno spazio affine parallelo ad esso va bene quindi l'idea è che in generale in generale se io trovo una funzione che sta in questo spazio delle primitive io sostanzialmente ho identificato qual è lo spazio di tutte le primitive quindi in pratica invece di scrivere che l'integrale di f piccolo contiene una certa funzione f questo è quello che mi interessa trovare almeno una funzione in questo insieme perché poi tutte le altre vengono di conseguenza invece di scrivere così scriveremo che l'integrale di f piccolo è uguale a f grande con abuso di notazione ma questo è comune come facevamo con gli o piccolo vi ricordate anche negli o piccolo noi scriviamo sempre uguale o piccolo in realtà anche lì erano erano delle inclusioni beh lo stesso tipo di abuso di notazione si fa qui cioè quando vi scrivo che l'integrale indefinito di una funzione f piccolo è uguale a f grande io intendo che f grande è una delle primitive di quella funzione non è l'insieme di tutte le funzioni esempio io scriverò che l'integrale del coseno di x in dx qual è una funzione che ha come derivata il coseno? il seno è seno di x e ora qui ci sarebbe un po' da discutere perché perché voi mi direte non è seno di x è seno di x più c va bene anche seno di x più c va bene però diciamo quindi io se volete sono un po' più permissivo di quello che sarebbe necessario cioè per me va bene questa perché questa io lo interpreto così questa è una primitiva un esempio di primitiva anzi sono infiniti esempi perché mi immagino che quel c possa variare qui ci sarà scritto per ogni c appartenente a r quindi questo è un esempio di infinite primitive e in questo caso queste sono tutte le primitive cioè in effetti questo è proprio un elenco di tutte le primitive e a parte il fatto che io formalmente dovrei metterci qui l'insieme diciamo è giusto ho trovato tutte le primitive il problema è che non sempre siamo in questa situazione cioè non sempre qui il problema è che non sempre l'insieme di definizione è un intervallo per cui direi che questo è l'ultimo esempio che facciamo giusto per confondervi le idee fino alla fine cosa succede se non siamo sull'intervallo quindi esempio qual è l'insieme l'insieme più semplice la funzione più semplice che non è definita sull'intervallo beh la funzione è per esempio 1 su x 1 su x è definita su r meno lo 0 r meno lo 0 non è un intervallo è l'unione di due intervalli questo è meno infinito 0 unito 0 infinito è l'unione di due intervalli allora qui le cose possono andare male cioè male vanno diversamente non è che vadano male vanno diversamente da quello che è il risultato generale perché se io vi chiedo chi è l'insieme delle primitive di f se io voglio sapere quali sono tutte le primitive di questa funzione beh diciamo una cosa che uno osserva ora se voi non lo vedete ma insomma lo dovremmo imparare è che c'è una una funzione che ha come derivata 1 su x la conosciamo una funzione definita su tutto questo insieme che ha come derivata 1 su x chi è? cioè una funzione che sicuramente sta qui dentro è il logaritmo del modulo di x lo sappiamo l'abbiamo visto facendo le derivate se vi ricordate che la derivata del logaritmo di x è 1 su x ma è definita solo per x positivo beh ma anche la derivata del logaritmo di meno x è 1 su x è definita per x negativo e quindi la derivata del logaritmo del valore assoluto di x è una primitiva di questa funzione ok? scusate il logaritmo del valore assoluto di x è una primitiva di 1 su x ed è definita sullo stesso intervallo su cui è definita S allora questa è una primitiva e quindi è giusto dire questo se voi mi scrivete però se voi aggiungete una costante stavolta non avete tutte le primitive cioè questo insieme se aggiungo una costante sicuramente ottengo una primitiva quindi questo insieme è sicuramente contenuto nell'insieme delle primitive ma è diverso ora voi mi trovate qual è una funzione? una primitiva di 1 su x che non si scrive come logaritmo di x più costante allora logaritmo logaritmo di x del modulo di x sarebbe questa funzione qui se io ci aggiungo una costante oltre a questa ci sto mettendo questa e questa qual è una funzione che è ancora una derivata che ha ancora come derivata 1 su x ma non è nessuna di queste funzioni qui queste funzioni qui la cosa importante è che qui non sono definite in 0 quindi no se metto meno ottengo meno 1 su x più 1 è una di queste perché c può essere uguale a 1 però scusate se la derivata di questa funzione arancione è 1 su x la derivata della funzione bianca è 1 su x che funzione potete costruire? potete prendere una funzione che è un po' arancione e un po' bianca per esempio questa è sempre derivata 1 su x quindi se voi prendete f di x che è il logaritmo nel modulo di x cioè il logaritmo di x se x è maggiore di 0 logaritmo di x più 1 se x è minore di 0 questa se ci pensate un attimo formalmente non è un elemento di questo insieme perché ho sommato costanti diverse quando x è positivo e x è negativo sì è una cosa proprio da matematici però è così no? in realtà questo non è solo un dispetto che vi facciamo perché in realtà è un fatto importante cioè quello che succede qui è che l'operatore il nucleo dell'operatore cioè in effetti chi è il nucleo dell'operatore derivata in questo spazio cioè l'operatore derivata dipende dallo spazio di funzioni che io prendo lo spazio di funzioni definite su r-lo 0 è diverso dallo spazio di funzioni definite su tutto r e il nucleo di questo operatore stavolta a dimensione 2 perché io posso scegliere una costante quando x è minore di 0 e un'altra costante quando x è maggiore di 0 e quindi ho un piano in realtà di soluzioni il nucleo è un piano e questo è un fatto diciamo a noi non interessa ok diciamo noi interessa solo per essere formalmente precisi e sapere quello che diciamo ma è un fatto curioso che il nucleo dell'operatore derivata vi dà informazioni sullo spazio che state guardando in questo caso sarà quel 2 che cosa rappresenta è una proprietà topologica che è il numero di componenti connesse dello spazio che state considerando e questo è un fatto diciamo in situazioni più complicate più complesse è un fatto importante che la topologia del vostro spazio si vede diciamo a riflessi sullo spazio su un operatore differenziale questo è un fatto che rivedrete il prossimo anno ad analisi 2 insomma un fatto abbastanza importante per noi è un accidente diciamo una cosa che va male ma in realtà non è che vada così male è così insomma è giusto che sia così ok questo per dire questo per dire che se voi mi scrivete logaritmo di x uguale 1 scusate l'integrale di 1 su x è logaritmo di x più c beh allora qui qui ci sarebbe da discutere perché questo più c questo più c che significato ha non ha nessun significato perché o mi dite tutte le soluzioni e allora questo è sbagliato o me ne dite una e allora è inutile che mi mettete c per cui per questo motivo a differenza insomma di forse di altri testi per me questo c si può anche non mettere e questo uguale non è un uguale ma è un appartiene cioè formalmente invece di considerare quando io dico logaritmo di x cioè come lo interpreto questa uguaglianza io non sto dicendo che che logaritmo di x è l'insieme delle primitive sto interpretando questo simbolo non come l'insieme delle primitive ma nel senso che questa uguaglianza vale quando il logaritmo è una primitiva questo significa che il logaritmo è una primitiva di uno su x ok quindi ci sono due scuole di pensiero o scrivete tutte le primitive o ne scrivete una sola sono tutte e due sensate però tutto sommato secondo me è più semplice scriverne una sola perché scriverle tutte si rischia di dimenticarsi queste situazioni un po' particolari dipende dal dominio se la funzione è continua su un intervallo io so il risultato generale è che l'insieme delle primitive basta aggiungerci c se ne trovo una tutte le altre si ottengono sommando una costante se però gli intervalli sono due devo aggiungere due costanti perché cioè se ci pensate quali sono le funzioni che hanno derivata nulla su questo insieme il nucleo dell'operatore derivata le funzioni che hanno derivata nulla su questo insieme non sono solo le costanti sono le funzioni come si dice localmente costanti cioè la funzione per esempio la funzione di Heaviside questa funzione qui è simile ma qui la funzione che vale 0 quando x è positivo e vale 1 quando x è negativo questa è definita su r-0 è una funzione regolarissima non c'ha discontinuità perché non è definita in 0 e ha derivata 0 questa è una funzione con derivata 0 più aumenta il numero di intervalli più aumenta il numero di intervalli esatto se ho un'unione di tre intervalli avrò tre dimensioni 3 e così via quindi è curioso che uno dice come faccio a sapere su quanti intervalli è definita cioè ho uno spazio di funzioni definite su un certo insieme come faccio a sapere quante componenti connessi a quell'insieme beh lo posso scrivere così la dimensione del nucleo dell'operatore derivata su quello spazio è un modo veramente complicato ma per certi versi diciamo abbastanza profondo di caratterizzare la topologia dell'insieme se la funzione è discontinua io le primitive in generale non le trovo sullo stesso dominio ma dovrò se però tolgo i punti di discontinuità per esempio questo è l'esempio la funzione di heavy side diciamo il suo problema è che lei è definita anche in zero e quindi non è continua perché questa se non la definisco in zero come in questo caso sarebbe una funzione continua perché ricordate che continua significa continua in tutti i punti del dominio della funzione quindi questa è una funzione continua se io qui ci metto un pallino pieno non è più continua perché diventa definita anche in quel punto e lì non è continua allora se ci metto il pallino pieno il teorema fondamentale del calcolo non vale e formalmente non ci sono più primitive cioè diventa vuoto perché nessuna funzione in zero può avere una derivata con un salto questo è il fatto che vi chiedevo di dimostrare provate a pensarci non esiste una funzione che in un punto ha come derivata un salto questo non è possibile farlo però se io tolgo questo punto cioè se io cerco le primitive su un insieme ridotto allora le trovo ma perché allora la funzione diventa continua cioè se tolgo il punto di discontinuità io ho la funzione di Heaviside tolgo questo punto diventa continua definita su due intervalli trovo le primitive separatamente sui due intervalli le metto assieme e ho trovato tutte le primitive quindi quindi questo è sì come vanno le cose se è discontinua l'idea che io posso togliere se tolgo i punti di discontinuità ebbè diventa continua e quindi mi riconduco alla situazione a quel punto devo guardare se è definita su degli intervalli certo che se la funzione di Richelet quella è discontinua in tutti i punti se tolgo i punti di discontinuità non rimane niente e in effetti quella non è neanche integrabile quindi difficilmente avrà avrà delle primitive va bene allora dalla prossima da mercoledì ritorniamo un po' con i piedi per terra e ci mettiamo a calcolare queste primitive che poi sarà sostanzialmente il nostro obiettivo primario per il prossimo compitino grazie a tutti grazie a tutti